grande attesa per la nuova puntata di asi world in onda a partire da lunedì 4 aprile incontro con il presidente alberto scuro winter race gli appassionati asia cortina per una classica invernale e valvolante 2022 la passione per il motorismo storico in chiave femminile ricordate asi world è visibile su sky sport canale 229 sul digitale terrestre al 402 su tv sat 55 è visibile in replica quotidiana e sul web a partire dal martedì a